Così mano prego qua abbiamo dirigente giusto farina Io io ho detto farina e farina e farina Grazie mamma Ma poi c'è un scritto Signor Franzone Signor Genuardi Signor Genuardi Signor Genuardi Signor Genuardi Signor Genuardi e poi non ti andare a schiacciare perdiamo l'uomo meglio che tutti stessi andiamo al campo è un po' 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 è un po'